siamo all'interno della nuova lexus rx l'abbiamo già testata mi auguro abbiate visto il video se non l'avete fatto alla fine vi mettiamo il link per andarlo a visionare ma questo è un consueto qui su we drive focus sulla sua tecnologia di bordo quindi infotainment strumentazione adas e quant'altro quindi non esitiamo ancora scopriamo insieme prima di iniziare voglio mostrarvi un po il layout come si controlla tutto ciò allora abbiamo ovviamente lo start button un enorme schermo pensate un po ragazzi 14 pollici completissimo le sue funzionalità le vedremo a breve ci sono questi bei bordi quando l'auto è spenta in questo momento è accesa in elettrico ma quando è spenta è tutto nero portatevi una pezza perché come sempre il nero lucido è bello ma va curato in quanto si riempie di impronte e polvere voglio mostrarvi che cosa i due rotori guardate un po sono a parte che hanno un bel grip sono silenziosissimi ma dentro c'è un led quindi sono dei rotori sospesi rispetto a quello che è lo schermo l'avevamo visto su un SUV concorrente 100% elettrico spero che vi venga in mente di cosa stiamo parlando in basso i pulsanti relativi allo sbrinamento anteriore a quello posteriore degli specchietti e il rotore per il volume e per mettere in muto subito sotto la tecnologia comprende piattaforma di ricarica wireless una usb c una usb a tramite cui connettersi questa qui e ulteriori due prese usb di tipo c per andare a caricare lo smartphone qui sul tunnel centrale selettore del cambio automatico i vari disinserimenti del traction control la modalità di guida off road il freno di stazionamento l'auto hold dello stazionamento e anche le modalità per andare a cambiare appunto da automatico tra elettrico e ibrido oppure andarlo a mettere in manuale ma vi faccio vedere anche il volante così vediamo subito la strumentazione abbiamo questi due queste due razze bellissime opache con pulsanti che sono anche pensate un po touch a sfioramento lì in fondo vedete se si vede c'è la display io sto semplicemente sfiorando e mi dice cosa sto controllando quindi poi smanetterete voi e sono touch anche i pulsanti dedicati qui alla all'alzare e abbassare il volume qui in basso andiamo a controllare quindi il lato destro del dell'edat display dall'altro lato invece abbiamo sempre freccette cruise control mantenitore di corsia e lato destro dell'edat display io vedete sto piano piano sfiorando ma devo cliccare per andare ad azionare comodissimo oltre a questo cos'altro la strumentazione strumentazione molto completa con questo grande quadro totalmente digitale sulla sinistra troviamo la percentuale della batteria sulla destra il livello di benzina carburante e al centro abbiamo questo grande cerchio con in alto la marcia inserita l'adaptive cruise control e anche il tachimetro in digitale in basso i consumi e anche l'utilizzo del pacco batterie qui in basso troviamo la visualizzazione ready qui a destra hv mode quindi ibrido insomma tutte quante le informazioni di cui possiamo necessitare tutto quanto configurabile da auto trip per andare a cambiare ovviamente il la visualizzazione del trip a o trip b e con le freccette la luminosità proprio di questo schermo ma adesso andiamo a scoprire l'infotainment allora come anticipato grande schermo 14 pollici iniziamo la sua visualizzazione innanzitutto dal layout perché abbiamo in questo caso il navigatore ma in basso è sempre fisso sempre fissa la visualizzazione del clima abbiamo le varie funzionalità con questo pulsante possiamo andare a espandere la visuale con s flow l'area diretta sulle sedili occupati il concierge clima automaticamente dispositivi di comfort tramite auto con questo pulsante andiamo a delle shortcut quindi qualcosa di usato spesso modalità di guida sport eco avviso di uscita corsia è normal quindi queste sono le cose più visualizzate più visualizzate più spesso comfort e praticità quindi calore massimo silenzioso freddo al massimo led up display quindi display a testa alta lo chiama lexos italia ci sta con tutte queste informazioni le modalità di guida e anche le shortcut per gli accessori del veicolo e l'assistente alla guida ultima pagina ulteriori assistenti alla guida ma chiudiamo possiamo andare a controllare per esempio mettiamo attiviamo il clima come vedete i rotori con il led di sottofondo si sono illuminati con la temperatura possiamo abbassarla per renderlo bizzona ma abbiamo anche la parte posteriore questo clima trizona controllabile in questo caso dal rotore vicino al volante quindi quello dedicato al guidatore spegniamola abbiamo i classici toggle per andare a aumentare la velocità delle ventole o per riscaldare il volante per i sedili riscaldarli o ventilarli e per la direzione delle bocchette entrambi i sedili sono ventilati ma procediamo con la visione di questo infotainment con che cosa appunto abbiamo tutte queste finestre laterali iniziamo dal navigatore mi piace tantissimo che questo 14 pollici vada ad occupare effettivamente una bella porzione widescreen all'interno del schermo della lexus rx il touchscreen è sensibilissimo veramente perfetto nella sua risposta nel suo feedback non abbiamo un feedback aptico ma abbiamo la possibilità di associare un suono al click di qualsiasi tipo di azione e quindi potremmo star sicuri di aver cliccato esattamente dove volevamo qui sulla destra abbiamo la bussola che ci cambia l'orientamento in questo caso è in 3d a volo d'uccello ma possiamo avere la zenitale con il nord puntato in alto o con la direzione della vettura puntata in alto lo zoom è con il più e con il meno ma anche con un pinch to zoom che credetemi ragazzi è una favola raramente ho provato macchine con una sensibilità del genere tre pallini per andare a vedere i punti di interesse per modificarli e per visualizzare sulla mappa traffico parcheggio in strada uscita tangenziale traccia del percorso la videocamera per la velocità mappa normale o bussola e la mappa con il meteo veramente comodissimo abbiamo il pulsante con il comando vocale per la navigazione tra l'altro layout non ve l'ho detto prima ve lo dico adesso prevede anche i vari le varie icone relative alla connessione della vettura al bluetooth e in alto all'orario cliccando lo si va direttamente alle impostazioni ma le vedremo dopo e qui c'è la lente d'ingrandimento per la ricerca quindi possiamo andare a digitare una destinazione con il tastierino alfanumerico oppure cos'altro abbiamo anche i preferiti i recenti ma anche i viaggi pianificati vedete è possibile registrare le destinazioni con lo smartphone leggere il manuale per conoscere i dettagli quindi un sistema di navigazione completissimo tra l'altro riusciamo anche ad allargare ancora di più quindi prende ancora di più la finestra con quasi tutti i 14 pollici di questo touchscreen veramente bestiale e vi dico di più contrariamente a tanti altri schermi questo qui è lontano dalla mia visuale quindi io oltre che ho un sensore che mi dice se sto effettivamente guardando la strada e suona con un cicalino ma è lontano dalla strada è più in basso non mi occupa la visuale della strada quindi forse da un certo punto di vista è molto più sicuro perché appunto non mi ostruisce in alcun modo la visuale andiamo oltre audio abilità attualmente disattivato abilità audio abbiamo diverse fonti radio dab fm sembra un televisore raga enorme spaziale nelle fonti abbiamo dab fm bluetooth app usb e miracast ovviamente in questo video non vi mostrerò come collegare il vostro smartphone via bluetooth perché domani uscirà come sempre qui su we drive un tutorial ad hoc chiudiamo abbiamo per esempio per la radio l'elenco delle stazioni abbiamo per esempio dj con questo impianto audio pioneer con questo pulsante possiamo andare a cercare le varie stazioni avanti e indietro sulle frequenze in scan possiamo effettivamente fare una scansione con il cuore aggiungere una stazione ai preferiti cos'altro nelle opzioni abbiamo le opzioni del suono ma le vedremo dopo nelle impostazioni ve l'anticipo possiamo vedere andare a bilanciare il suono all'interno dell'abitacolo e modificare alti medi o bassi cos'altro torniamo indietro abbiamo le preselezioni quelle preselezionate l'elenco delle stazioni e la sintonizzazione diretta con il tastierino numerico quindi preciso telefono non ve lo faccio vedere ve lo farò vedere nel video di domani veicolo abbiamo le modalità di guida che sono normal sport o eco ma anche custom perché possiamo andare a personalizzare quello che è il nostro quella che è la nostra modalità di guida in primis per quanto riguarda il gruppo propulsore possiamo modificarlo il normal sport o eco lo sterzo sport o normal e l'area condizionata normal o eco veramente preciso cos'altro quindi modalità di guida erano queste assistente di guida tutti gli adas quindi abbiamo il pre collisione il sistema di assistenza al cambio corsia l'assistente alla guida proattiva l'avviso per gli ostacoli anteriori l'avviso di uscita corsia l'assistenza per la segnaletica stradale che si può modificare solo dal touch contrariamente al mantenitore di corsia al cruise che si possono disattivare anche dal volante qui se ci annoia il cicalino acustico per andare a riconoscere i limiti della strada possiamo disattivarlo solo dallo schermo monitoraggio dell'angolo cieco avviso ostacoli posteriori assistenza uscita sicura questo l'abbiamo provato utilissimo praticamente il cicalino sul sullo specchietto esterno ci avvisa con un sistema visivo con un avviso visivo che sopraggiunge qualcuno non solo macchine perché io avevo parcheggiato sul lato sinistro della strada mentre stavo per aprire lo sportello per fortuna l'avevo visto ma la macchina comunque mi ha avvisato del sopraggiungere di un ciclista sul marciapiede vabbè lasciamo stare comunque abbiamo il sensore di parcheggio assistito il freno di parcheggio assistito per frenare quando ci siamo avvicinando troppo a un muretto e rilevamento della telecamera posteriore anzi già che ci siamo metto in retromarcia per mostrarvela è super wide molto comoda nel parcheggio la definizione anche piuttosto buona possiamo andare a modificare la visuale guardate un po' per sbaglio acceso l'aria condizionata cos'altro possiamo eliminare o attivare diversi tipi di griglie dinamiche utilissimo ma rimettiamo in park questa quindi era la finestra dedicata all'assistente di guida info viaggio il trip abbiamo i chilometri totali di autonomia la durata del nostro ultimo viaggio sono partito da poco da casa possiamo cancellare i dati la cronologia questo è il consumo medio chiaramente un auto plug in hybrid quindi i consumi sono fortemente caratterizzati da basso livello visto che c'è il motore elettrico ad aiutarci possiamo aggiornarlo e cancellare i dati però io ho un po' caldo avevo acceso per sbaglio il riscaldamento dei sedili ora cos'altro torniamo sul veicolo abbiamo il flusso di energia qui il flusso si illumina a seconda se siamo in elettrico o in ibrido benzina in ibrido benzina è il flusso in blu quindi questo è l'anteriore della vettura qui c'è il lato della presa di ricarica che ci mostra anche mentre stiamo caricando trazione anteriore e posteriore diventa integrale essendo una plug in hybrid e appunto ci mostra il flusso con il motore elettrico diventa arancione sarà visualizzato in arancione con il motore termico in azzurro cos'altro? orario di ricarica qui possiamo pianificare la nostra ricarica in base alla settimana e in base all'orario se vogliamo possiamo anche aggiungere un evento per esempio se sappiamo che in settimana abbiamo degli orari che ci permettono di uscire di casa a una certa ora con la macchina carica mentre nel weekend ne abbiamo altri possiamo pianificarlo trazione integrale come vedete ci dà le informazioni proprio sulla trazione come se fosse un fuoristrada puro figata molto bello pressione gomme eccola qui è chiara insomma non serve che vi dica niente allarme veicolo nessun messaggio dell'allarme veicolo e poi su personalizza possiamo personalizzare tutti i controlli del veicolo quindi led up display attivarlo disattivarlo la sua luminosità è la sua posizione la personalizzazione può essere standard minimo o completo lo lasciamo su standard misuratore abbiamo il tipo di misuratore tipo 2 tipo 1 ci modifica le varie visuali per essere chiari ve le mostro guardate qui qui abbiamo il tipo 3 il tipo 2 e il tipo 1 che è quello che mi piace di più quindi lasceremo questo oltre a questo possiamo modificare i contagiri mettere scambio automatico charge eco e power per l'utilizzo del motore elettrico misuratore hv e torniamo al contagiri oltre a questo lo scambio di display possiamo con le freccette guardate un po' andare a cambiare queste visualizzazioni molto molto interessante tutto ciò che possiamo vedere questa qui tra l'altro è la forza g molto molto interessante insomma varie finestre che possiamo visualizzare poi abbiamo il display luci di arresto l'indicatore e v per quanto riguarda le luci abbiamo sensibilità automatica su on il timer dello spegnimento automatico per quanto riguarda le luci esterne e anche quelle interne illuminazione luminosità su tutte le zone oppure per singola zona controllo porta il blocco automatico quando mettiamo in p cioè se cambiamo da p a retromarcia neutral o drive o anche in s per il cambio sequenziale sblocco automatico se mettiamo in p oppure solo la porta conducente anzi io lo direi mettiamo su tutto cos'altro? chiave elettronica wireless blocca tutte le porte accedi a via luci di feedback, comandi automatici del portellone posteriore, il volume del buzzer che è alto e la posizione di apertura è 5 quindi quando si apre il portellone elettroattuato c'è un cicalino ok non ce lo fa sentire però si sente molto chiaramente in alto e quindi lasciatelo così ve lo consiglio salita e uscita scorrimento sedile completo, sollevamento sedile completo e piantone dello sterzo bascula quindi è una funzione di comfort veramente ottima modalità di guida personalizzata, l'abbiamo visto prima, ricarica, la corrente di ricarica con il raffreddamento della batteria, il riscaldamento della batteria e la corrente di ricarica possiamo mettere al massimo a 16 A o 8 poi pressione gomme possiamo impostarla, nuova registrazione pneumatici, rotazione pneumatici e anche il valore di riferimento per la pressione aria attuale e indicata interruttore servo sterzo, lato sinistro, lato destro e opzioni come vedete ci sono queste configurazioni che si possono andare a modificare modalità guanti in inverno per la sensibilità se fa troppo freddo e quindi usiamo la macchina con i guanti vediamo cos'altro abbiamo clima temperatura del sedile automatica per il sedile anteriore sinistro o destro temperatura del volante secondo il tempo di funzionamento modalità aria condizionata in automatico, ventilazione efficiente, sensibilità allo smog ultima finestra, utilità personalizza il cruise controller attivo, sensore di sicurezza e poi abbiamo i suggerimenti del veicolo in questa finestra abbiamo il menu connesso per il browser web e infine le impostazioni conducente attuale Gianfranco Ranieri non lo conosciamo perché io sono Carlo, va bene abbiamo info personali tutte quante le impostazioni attualmente dispositivi bluetooth collegati we drive Carlo bluetooth e dispositivi no, ve lo farò vedere nel video di domani vabbè generali riduce animazione segnala l'acustica dello schermo sensibilità dello schermo data e ora imposta automaticamente formato 24 ore o 12 giorno, mese, anno e quant'altro come vedete sono tantissimi tastiera memorizza tastiera elimina la cronologia delle ricerche della tastiera lingua unità di misura abbiamo italiano ma ce ne sono come al solito tantissime unità di misura imposta automaticamente in base alla località informazioni di viaggio in litri sul 100 km e pressione gomme in bar generali quindi erano queste poi abbiamo il wifi possiamo attivarlo qualora avessimo un'offerta display possiamo attivare o disattivare ecco come vedete tocca per accendere lo schermo possiamo spegnerlo di notte per non dare fastidio automatico in base all'orario e alla luce dell'ambiente questo è diurno e questo è notturno noi lo lasciamo in automatico luminosità e contrasto possono essere aumentate e questa è la telecamera luminosità e contrasto e anche come vedete tutta la gamma di colori che si può vedere in live audio e media abbiamo il suono regolatore volume auto il volume del sistema e del navigatore la navigazione durante le chiamate il controllo del volume è adattivo il volume dell'assistente di guida e anche il suono su RAM che sinceramente voglio attivare perché no multimedia mostra screensaver le fonti sono queste come abbiamo visto prima navigazione tipo di visualizzazione mappa abbiamo la guida ai confini nazionali mostra il tipo di strada per esempio autostrada strada comune nessuno o tutto mostra i flussi di ingorgo stradale senza traffico avvertimento incidente stradale ma non solo abbiamo anche il suggerimento per il parcheggio su strada e la lingua della mappa per regione percorso evita il traffico e il suggerimento per le stazioni di rifornimento guida mappa dell'intersezione zoom automatico videocamera velocità guida con i nomi delle strade avvertimento meteo guida avvertimento in gorgo stradale e guida vocale per punti di interesse con la guida in italiano il traffico automatica la frequenza e il nome della stazione per esempio radio 2 i dati della mappa l'aggiornamento e le informazioni quindi no dobbiamo andare in concessionaria necessariamente per aggiornarla voce ricerca la parola di risveglio può essere eilexus ma può anche essere ciao lexus customizzata quindi personalizzata o quant'altro il pulsante nel microfono e il comando vocale oltre al supporto vocale che ci permette se abilitato di rispondere ad alcune notifiche del sistema personalizzazione veicolo l'abbiamo visto prima praticamente l'assistente alla guida supporto conducente mitigazione collisione notifica info concessionario non è stata memorizzata info e sicurezza nome del veicolo abilità tutti i dati e quant'altro e l'aggiornamento del software una strumentazione di bordo una tecnologia di bordo completissima fateci sapere quelli che sono i vostri pensieri qui sotto nei commenti qui in alto nelle schede vi lasciamo il link per il nostro test drive a bordo di questa lexus rx grazie come sempre agli amici di amicar per averci fatto provare questo nuovissimo modello questo sub interessantissimo ma ve ne abbiamo già parlato come si deve nel nostro test drive se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel like cos'altro ricordate di iscrivervi al nostro canale di cliccare sul campanello per ricevere tutte le notifiche e anche di seguirci su tutti gli account social che vi possano venire in mente insieme al nostro sito trovarci semplicissimo vi basterà cercare wedrive.tv grazie a tutti